La torta con la nutella e la crema è decisamente invitante e prepararla sarà un vero gioco da ragazzi, con il nostro bimbi ovviamente. Ingredienti 160 g di farina 150 g di zucchero 2 uova intere 200 ml di latte 1 pizzico di sale 1 bustina di lievito per dolci 3 cucchiai di nutella 1 dose di crema Versa nel boccale la farina, lo zucchero, le uova, il latte e il sale. Aziona il bimbi per 30 secondi, velocità 4. Aggiungi la nutella. Aziona il bimbi per 20 secondi, velocità 4. Metti nel boccale anche il lievito. Aziona il bimbi 10 secondi, velocità 4. Imburra in farina una tortiera. Versaci dentro al composto e cuoci in forno caldo a 180 gradi per 30 minuti. Togli la torta dal forno e una volta raffreddata tagliala a metà. Farciscila con la crema e spolvera con zucchero a velo. Buon appetito e alla prossima ricetta! Se ti è piaciuta questa ricetta, clicca il pulsante mi piace. Iscriviti al mio canale YouTube, ti aggiornerò su tutte le nuove videoricette. Stai su Facebook, all'indirizzo qui sotto trovi tantissime videoricette e una community di appassionati di cucina. E ora, cosa vuoi preparare? Grazie a tutti!